Montesano, la regione Campania esprime parere favorevole alla realizzazione del metanodotto Montesano, Poligastro, Bussentino Sala Consilina, questione Tari, responsabile Codacons, Roberto De Luca, chiede le dimissioni dell'amministrazione comunale e ricalcolo delle tariffe Stipendi forestali, accordo comunità montane BCC di Buonabitacolo per l'anticipo delle mensilità Buccino, anche la comunità montana Tanagro Alto e Mediosele punta alla creazione di distretti rurali 4 novembre, oggi giorno dell'unità nazionale delle forze armate, ricordo della fine della prima guerra mondiale Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Uno News In apertura pochi giorni fa lo scampato pericolo per la comunità montesanese grazie alla sentenza del Consiglio di Stato che confermava il blocco dei lavori per la realizzazione della stazione elettrica Terna Oggi però una nuova tegola si abbatte sul comune, infatti la regione Campania esprime parere favorevole alla realizzazione del metanodotto SNAM confermando che grazie anche all'acquisizione di tutti i pareri sempre favorevoli delle commissioni mentre l'ente Parco si è dichiarato non competente ad esprimersi per quanto riguarda le aree contigue Passo avanti nella realizzazione del metanodotto denominato Saline Terrenica che dal comune di Montesano arriverà fino a Policastro Bussentino attraversando anche i comuni di Casalbuono, Casaletto Spartano, Tortorella, Vibonati Il progetto è stato presentato da SNAM Rete Gas SPA che ha incassato il parere favorevole da parte della regione Campania a seguito anche dei relativi pareri favorevoli espressi dalle commissioni VIA, VAS e VI espressi in data 15 luglio 2014 e 2 ottobre 2014 L'annuncio è regolarmente pubblicato sul BURC del 3 novembre con decreto dirigenziale numero 168 del 30 ottobre 2014 Nonostante quindi il metanodotto venga realizzato e attraversi un'area interamente ricadente nel territorio protetto del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diana e Alburni e nonostante le battaglie e le manifestazioni indette per evitare la realizzazione dell'opera la regione Campania provvede ad autorizzare l'inizio dei lavori fermo restando, almeno da quanto si legge nel decreto che l'inizio dei lavori dovrà essere comunque concordato con regione Campania ente Parco e enti gestori dei siti Natura e subordinato ad un progetto complessivo di monitoraggio ante, durante e post operam e gestione di durata almeno quinquennale degli habitat interferiti dal progetto e dovrà essere predisposto all'atto della progettazione esecutiva L'opera tanto temuta quindi si farà nonostante i divieti che dovrebbero essere presenti sui territori delle aree protette un'opera che per associazioni ed enti viene definita dannosa per l'ambiente e il territorio viene comunque realizzata ciò peraltro è reso possibile anche a seguito del parere espresso proprio dall'ente Parco che su richiesta della regione Campania di approfondimenti e di pareri l'ente stesso si è dichiarato non competente ad esprimersi su aree contigue del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diana e Alburni si legge infatti nel decreto dirigenziale preso atto che il dissenso alla realizzazione dell'opera del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diana è causato dal mancato approfondimento progettuale degli impatti prodotti dalle aree di cantiere nei punti di partenza e arrivo e dei considerevoli impatti prodotti in aree contigue al Parco stesso preso atto che tuttavia agli atti sono presenti citati approfondimenti e che inoltre il Parco stesso si dichiara non competente ad esprimersi su interventi in aree contigue Negli ultimi giorni i cittadini di Sala Consilina si sono visti nuovamente recapitare bollette pazze causate secondo le dichiarazioni dei responsabili dell'ufficio finanza del comune di Sala Consilina da errori del software Il responsabile Codacons Vallo di Diana Roberto De Luca interviene in merito alla vicenda e ne riprende anche un'altra recente questione che ha visto sempre i contribuenti salesi gravati da un fardello eccessivo a causa di errori di software chiede le dimissioni dell'Aggiunta Comunale e il ricalcolo gratuito delle tariffe Tari La questione Italia Sala Consilina tiene banco con le bollette che negli ultimi giorni sono arrivate nelle case di tutti i cittadini salesi In merito alla vicenda si registra l'intervento del responsabile Codacons Vallo di Diana Roberto De Luca che stigmatizza l'operato dell'amministrazione comunale salese anche in merito ad altri recenti accadimenti su tariffe erroneamente applicate De Luca torna a chiedere le dimissioni dell'Aggiunta Comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone sottolineando come il rapporto amministratori cittadini sia sostanzialmente fondato sulla fiducia reciproca Fiducia che, come dichiarato dal responsabile Codacons, viene costantemente intaccata da errori grossolani che danneggiano fortemente i cittadini salesi Ancora di più se si considera che si tratta troppo spesso di errori che portano ad aumenti vertiginosi dell'imposizione fiscale e che i contribuenti sono costretti a pagare Già gli aumenti delle tariffe del servizio idrico avevano portato il Codacons a chiedere le dimissioni dell'amministrazione comunale sottolineando che gli amministratori erano chiamati a tutelare i cittadini e i loro interessi ancor di più in un periodo di crisi economica in cui si registra il congelamento dei redditi Oggi la storia si ripete con le tariffe dell'Atari e anche in questo caso l'ufficio finanza lamenta una disfunzione del software che rende più alte le bollette dell'Atari e Tares In merito proprio alla questione il responsabile Codacons Vallo di Diano Roberto De Luca chiede a tutela dei cittadini che l'amministrazione comunale provveda all'immediata sospensione di tutti i pagamenti al ricalcolo d'ufficio delle somme anche per l'anno 2013 come da eccezioni formulate dal Movimento 5 Stelle a suo tempo e inoltre all'emissione a carico dell'azienda che ha commesso l'errore software di nuove comunicazioni ai contribuenti con nuovi bollettini e date di scadenza congrue con la data di spedizione Il rischio che l'utente oggi corre, spiega Roberto De Luca relativamente alla questione Tares-Tari è che se lo stesso non effettua richiesta di sgravio per quanto già versato in più oppure non si reca al comune per il ricalcolo della tassa con connessi disturbi gastrici e perdite di tempo non potrà godere di un normale trattamento riservato ad un normale cittadino in un normale comune E buone notizie invece per i 233 operai della comunità montana Vallo di Diano che da mesi non percepiscono le mensilità In questi giorni è stato infatti siglato un accordo tra comunità montana e BCC di Buonabitacolo per l'anticipo di 4 mensilità e gli operai dovranno presentare apposita richiesta ma vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio Una boccata d'ossigeno per i 233 operai e per le loro famiglie che da mesi non percepiscono lo stipendio dalla comunità montana Vallo di Diano È stata infatti perfezionata la convenzione tra l'ente montano e la BCC di Buonabitacolo per l'anticipo di alcune mensilità 233 operai di cui 147 con contratto a tempo indeterminato ed 86 con contratto a tempo determinato che ora potranno fare richiesta dell'anticipazione di 4 mensilità arretrate Un gesto di responsabilità da parte nostra a favore di famiglie in difficoltà e a supporto di un ente e la comunità montana che noi crediamo meritevole di attenzione e supporto ha affermato il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca A seguire le varie procedure di richiesta ed autorizzazione delle somme sarà il vice direttore della BCC, Angelo Frodella Occorre che i lavoratori dell'ente montano facciano formale richiesta di anticipazione di mensilità arretrate ha affermato Frodella Le nostre agenzie di Padula, Sanza, Montesano sulla Mercellana e la sede centrale di Buonabitacolo sono a disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento a riguardo Nei giorni scorsi anche nell'area della comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele si è parlato della creazione di distretti rurali ma soprattutto di opportunità e vantaggi che ne possono derivare all'incontro erano presenti oltre ai rappresentanti del comitato promotore anche rappresentanti istituzionali del territorio e responsabili di imprese che ne hanno spiegato proprio gli eventuali vantaggi Vediamo La creazione di distretti rurali rappresenta ad oggi uno dei principali punti da cui si può ripartire per un sviluppo sostanziale delle aree interne Anche nell'area del Tanagro e dell'Alto Medio Sele si discute dell'opportunità, nei giorni scorsi a Buccino un incontro proprio per discutere dell'opportunità di creare distretti rurali e quindi ripartire dai fiumi e dai suoi affluenti Il 31 ottobre, presso la sede della comunità montana sindaci e imprese sono state chiamate ad aderire al comitato promotore per l'istituzione dei distretti rurali agroalimentari di qualità e di filiera per le aree interne protette della provincia di Salerno All'incontro era presente anche il responsabile dei comitati promotori Anna Pinar Caro che ha sottolineato come l'area del Tanagro e dell'Alto Medio Sele rientra nelle perimetrazioni d'aria per l'istituzione dei distretti perché questi territori rappresentano la linfa vitale agricola dei due paesaggi culturali riconosciuti dall'UNESCO cioè il Cilento e Costa d'Amalfi coprendo anche Bacino Idrografico un territorio esteso da Sapri ad Amalfi e l'adesione pubblica di quest'area al comitato promotore è essenziale per porre le giuste basi al controllo e monitoraggio della qualità delle acque verso una programmazione negoziata ed integrata dei contratti di fiume In piena sintonia Giovanni Caggiano presidente della comunità montana Tanagro Alto Medio Sele che ha sottolineato come la legge regionale sui distretti stabilisce che sarà possibile definire una fiscalità nelle aree che aderiscono questo strumento, continua, potrà dare un'identità alle aree interne Anche Gerardo Malpede, sindaco di San Gregorio Magno nonché neoeletto consigliere provinciale crede fortemente nel progetto distretti rurali anche a sostegno dell'occupazione giovanile Secondo Malpede, infatti, riuscire a sfruttare il progetto dei distretti rurali anche grazie alla programmazione fondi 2014-2020 potrà consentire al territorio di non perdere più i suoi giovani All'incontro a Buccino erano presenti anche i consiglieri regionali Donato Pica e Gennaro Mucciolo Oggi 4 novembre, nel 1919 questa data è stata istituita in ricordo dell'unità nazionale e delle forze armate ma anche in ricordo della fine della prima guerra mondiale avvenuta il 4 novembre del 1918 quindi oggi si è festeggiato in tutta Italia questa importante ricorrenza e questo importante anniversario vediamo Istituito nel 1919 il 4 novembre è il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate in ricordo appunto del 4 novembre 1918 che celebra per il nostro paese l'anniversario della fine della prima guerra mondiale il 4 novembre 1918 entrava in vigore infatti l'armistizio firmato a Villa Giusti a Padova con l'impero austro-ungarico il generale Armando Diaz comandante in capo delle forze armate italiane nel bollettino della vittoria annunciava agli italiani la guerra contro l'Austria-Ungheria che l'esercito italiano inferiore per numero e per mezzi iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse in interrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta Trento e Trieste erano ricongiunti all'Italia Cesare Battisti, Fabio Filzi, Nazario Sauro vedevano compiuto il sogno loro e delle popolazioni italiane delle terre irridente l'unificazione territoriale, politica e istituzionale dell'Italia era stata interamente realizzata il prezzo pagato era stato altissimo oltre 4 milioni di soldati mobilitati di cui 250.000 giovani appena 18 anni 600.000 morti e un milione e mezzo di feriti 400.000 i civili che avevano abbandonato le proprie case sulla linea del fronte in tutta la provincia di Salerno in tutti i centri della provincia di Salerno oggi la commemorazione del 4 novembre per onorare soprattutto le vittime della guerra noi siamo stati a Polla dove l'amministrazione comunale e la cittadinanza si sono dati appuntamento per una santa messa nella cappella del parco delle rimembranze per poi deporre una corona di alloro ai piedi del monumento del milite ignoto presenti numerosi studenti vediamo costruttori di pace per preservare il dono della libertà e questo è il messaggio lanciato oggi dalla comunità di Polla che si è riunita qui nel parco della rimembranza per onorare le vittime della guerra mondiale un messaggio importante per i tanti giovani delle scuole che si sono riuniti quest'oggi in questo parco e anche tante le associazioni degli ex combattenti e dei figli degli orfani di guerra sicuramente oggi celebriamo la festa delle forze armate ma commemoriamo quando hanno perso la vita i nostri soldati per avere un'Italia unita e democratica quindi un'Italia di pace e quindi oggi questa manifestazione va solo per ricordare questo ma anche per dire che in questo momento bisogna fare di più nella nostra società in quanto la pace viene turbata da tanti episodi quindi dalla mafia, dalla società malavitosa e da altri venimenti quindi un messaggio forte va e giuro affinché i valori del passato quelli per cui sono difesi i nostri soldati la famiglia, l'amicizia, la solidarietà vengono insaldati e soprattutto questo messaggio deve andare verso le famiglie ma verso i nostri giovani Per voi giovani che valore ha il significato della pace? Per noi giovani oggi la pace è dire quello che pensiamo senza avere paura di essere criticati e giudicati per me la violenza è una cosa bruttissima come ha detto anche il nostro parroco Don Luigi siamo costruttori di pace l'amicizia è un valore molto importante per noi essere amici essere uniti essere uniti aiutarci l'uno con l'altro questa è la pace per noi e ora una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo per la seconda parte del nostro Tg Bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a potenza e parliamo di economia proprio perché nella città molti grandi istituti bancari hanno lasciato il capoluogo per spostarsi al nord ma con la banca Monte Bruno che anzi in questo contesto si inserisce a potenza prende una sede distaccata con la sua undicesima filiale nel suo primo capoluogo di provincia ascoltiamo in merito il sindaco di potenza Dario De Luca e i dirigenti della banca Monte Bruno Sindaco che cosa rappresenta per potenza la sua città l'apertura di una filiale della banca Monte Bruno? In questo momento particolare di grande difficoltà della economia della nostra città e della nostra regione l'apertura di uno sportello come quello della banca Bruno costituisce un motivo di grande speranza un motivo di inversione e di tendenza Il direttore Michele Albanese diceva abbiamo già iniziato a collaborare con il Comune in che senso ce lo può spiegare? Con il Comune inteso nell'accezione più ampia del termine nel senso ha già cominciato con delle sponsorizzazioni di squadre di calcio per cominciare ad apportare al nostro territorio un beneficio sociale che io sono convinto che questa banca apporterà in maniera copiosa La banca Monte Bruno arriva in un capoluogo di regione che è Potenza che cosa si prova? Quale soddisfazione? È stato un percorso molto lungo faticoso è durato qualche anno in quanto appunto noi venivamo da un piccolo centro poi ci siamo spostati in quello che è il Vallo di Diano che già diciamo ha ampliato la nostra operatività però il nostro obiettivo ultimo era quello di espanderci perché un'azienda per sopravvivere ha bisogno di crescere è l'ennesimo successo di questo istituto che ha dato tanto nel Vallo di Diano alle imprese del Vallo di Diano e che ci auguriamo e sicuramente darà tanto anche a questo territorio alla Basilicata in quanto azienda possiamo dire valdianese per noi è una grande soddisfazione cioè sbarcare in un confine diverso che quello della Basilicata e portare il mare Vallo di Diano Cilento diciamo quella che è la nostra aria e per noi è un motivo di grande successo quindi i vecchi insegnamenti il cuore nelle attività anche quelle economiche come la banca è forse questo il vero ingrediente che fa andare avanti assolutamente sì noi crediamo di avere successo perché applichiamo alla regola dell'economia i valori senza valori non si va da nessuna parte e questi valori ci sono stati tramandati da chi è venuto prima di noi lei addirittura ha anche chiesto addio di benedire il vostro lavoro quindi questo significa appunto che il vostro lavoro viene fatto col cuore sicuramente sì non ho vergogna di dire che mi appello al Padre Eterno tutte le mattine che mi alzo chiedendo a lui di starci vicino perché sicuramente con la sua guida possiamo intraprendere un cammino tranquillo sereno e che ci possa fare essere differenti ma proprio perché mi dia la forza e ci dia la forza di vivere insieme alle persone quei bisogni che oggi tutti quanti vivono anche il nostro territorio presenta delle eccellenze culturali tra chi è riuscito ad imporsi ad emergere fuori però dal Vallo di Diano c'è anche Rosa Maria Sarno pollese di nascita che trasferitasi a Milano è riuscita ad aprire una sua casa editrice che peraltro negli anni acquisisce sempre maggior valore e importanza Rosa Maria Sarno è tornata lo scorso sabato a Polla ospite della libreria Ex Libris Caffè di Michele Gentile in occasione della presentazione di due libri di Guido Mattioni proprio editi dalla sua casa editrice nell'intervista realizzata ai nostri microfoni Rosa Maria Sarno parla dei suoi successi della sua casa editrice da dove è partita e dove vuole arrivare noi abbiamo una casa editrice indipendente siamo orgogliosamente di qualità una casa editrice orgogliosamente di qualità presentiamo abbiamo tre marchi il primo è Metamorphosis Editore con cui realizziamo soprattutto testi di divulgazione culturale di ordine letterario e artistico basti citare la leggenda letteraria che è è al venticinquesimo anno di pubblicazione l'agenda Dante che è al quindicesimo l'ottocento che è il catalogo d'arte dell'ottocento italiano il secondo marchio è Mind con cui facciamo soprattutto saggistica economica e manualistica nella manualistica siamo molto forti nell'area della motivazione soprattutto con l'ana se vuoi puoi e l'ultimo nato è questo Inca Edizioni con cui pubblichiamo narrativa e varia che va dal cinema alla alla satira siamo distribuite in tutta Italia nelle grandi catene così come nelle librerie indipendenti nonché online oggi l'online sappiamo che però naturalmente amiamo molto i librai indipendenti come in questo caso perché sono librai che sanno scegliere sanno consigliare sanno essere vicini al pubblico quindi fare in modo che si ami la lettura ai libri altra cosa molto importante a cui io tengo molto è ringraziare Michele segnalare l'iniziativa di Michele Gentile questa idea del libro sospeso che può sembrare semplice ma invece davvero bella innovativa non a caso molti librai hanno ripreso in tutta Italia hanno ripreso questa idea molti si sono ascritti hanno tentato di ascriversi la primogenitura di questa idea di questa proposta e invece no è proprio nata qui e poi via via ha preso piede e ci auguriamo che appunto possa continuare ad essere diffusa soprattutto per i giovani per i bambini che imparino a leggere presto e amino la lettura ci spostiamo ora a Salerno il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca dopo una lunga pausa torna a vestire i panni del sindaco sceriffo su Youtube infatti impazza in queste ore un video in cui De Luca attacca duramente un nigeriano a difesa dei vigili urbani qualcuno gli rimproverava un calo di tensione un certo imborghesimento che fine ha fatto si diceva il sindaco sceriffo quel Vincenzo De Luca pronto ad intervenire a capo di una squadreglia dei vigili urbani per rimproverare e poi far multare un'automobilista piazzato in doppia fila su via Roma in un'ora di punta e con un traffico impazzito dove è finito ancora si chiedevano il De Luca pronto a sfidare le più elementari regole della privacy mostrando in pubblico le foto di cittadini poco rispettosi del decoro urbano la risposta è in queste immagini amatoriali che oggi impazzano su Facebook e che documentano un violento alterco tra alcuni vigili urbani ed un questuante di colore pizzicato proprio da De Luca di ritorno dall'inaugurazione del nuovo parco urbano di Giovi Casamanzo mentre esostava nei pressi di un supermercato come era solito fare da tempo De Luca da sempre sensibile a queste operazioni interviene personalmente a difesa dei vigili urbani uno dei quali ferito durante la colluttazione con il giovane in veendo contro alcuni salernitani che avevano preso le parti del giovane Piaccia o no il sindaco sceliffo è tornato ed è assolutamente carico segno evidente che dopo un periodaccio trascorso in appenea sta recuperando forze energie carica adrenalinica l'attendono sfide importanti e chissà se questa linea questo atteggiamento per così dire intransigente sarà anche la linea giusta quella da premiare abbiamo avviato il randagismo nella nostra città abbiamo un'ambulanza veterinaria che raccoglie i cani anche feriti nei nostri quartieri è stato presentato nei giorni scorsi presso l'aula consigliare del comune di Padula in piazza Umberto I il libro di poesie scritto da Mario Senatore realtà del sogno il volume come detto raccoglie una serie di poesie scritte dallo stesso senatore e che spesso portano in relazione l'uomo con Dio a raccogliere i pareri dei diversi relatori intervenuti alla presentazione del libro di Mario Senatore per noi c'era Pietro Cusati vediamo è un libro è un libro che va visto da due angolazioni dal punto di vista letterario devo dire tranquillamente che è un libro che appartiene al salotto buono della poesia perché Mario Senatore con il verso ci sa fare sia dal punto di vista della strutturazione sia dal punto di vista della capacità di creare atmosfere e connotazioni molto suggestive anche utilizzando delle volte un linguaggio che può sembrare arcaico che però rende maggiormente suggestivo l'insieme dal punto di vista del contenuto possiamo definirlo con una formula dalle radici al cielo perché le radici forti dei suoi valori che partono da Padula attraversano la sua cultura la sua identità e gli permettono di volare di volare fino a una serie di riflessioni e di meditazioni che partono dalla zona più alta della società quindi la difesa dei valori etici della società della famiglia fino alla conquista del cielo delle gocce di cielo del Dio che lui mette sempre in rima con io la realtà del sogno io cerco sempre così come è stato sempre il mio fermo proposito il proponimento di trasformare possibilmente il sogno in realtà perché non è detto che insomma sognando ci si attrae insomma si naviga nelle nuove nei cieli infiniti bisogna lottare perché le cose buone si realizzino e Padula ha tutte le carte in regola per farlo quindi mi sembrava doveroso dare la mia modesta testimonianza in questo senso il sogno può diventare realtà per un cavaliere d'amore e d'onore come il nostro Mario Senatore è la definizione di Alda Merini quando le chiesi che cosa pensasse di noi uomini meridionali e la sua risposta siete gli ultimi cavalieri d'amore e d'onore e si attaglia perfettamente alla figura del nostro personaggio legatissimo ovviamente al genius loci al suo luogo di origine ecco quindi ha sentito la necessità di presentare assolutamente questo libro in questo posto che appunto ha segnato da sempre la sua vita e noi lo stiamo sostenendo ecco in questa crociata in nome di un sogno che possa finalmente diventare realtà il sogno della vita della letteratura che si fa vita e della vita che si fa letteratura ed era questo l'ultimo servizio di oggi vi ricordo che notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.unotvweb.it grazie per averci seguito auguro a tutti un buon proseguimento di giornata grazie a tutti